Si sono svolti nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre i funerali di Leonardo Calcina, il giovane che si è tolto la vita tra domenica e lunedì in un casolare nelle campagne di Montignano, frazione a sud di Senigallia. La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista non è riuscita a contenere tutte le persone, tantissimi giovani in prima fila, che si sono voluti stringere alla famiglia del quindicenne e che hanno voluto dare l'ultimo saluto a un ragazzo prematuramente scomparso, vittima, secondo i genitori, di pesanti episodi di bullismo, che però non erano ancora stati denunciati. Durante la celebrazione, ufficiata dal parroco Don Emanuele Lauretani, è stata più volte sottolineata l'importanza di unirsi nell'amore, nella fratellanza, nella speranza e nella giustizia. Proprio di giustizia ha parlato invece la madre al termine del rito in un commosso addio, ha prima ricordato come il figlio Leonardo fosse sempre impegnato a proteggere i suoi amici, tanto da ripetere una frase di Michael Jackson in cui si fa riferimento a un mondo pieno di odio, rabbia, disperazione e sfiducia in cui tutti però possono essere messaggio di speranza e conforto. Conforto che però lui non è arrivato, secondo quanto denuncia la famiglia, proprio dalle istituzioni educative. E poi alla fine ha concluso l'intervento dicendo di credere nella giustizia terrena e divina, una frase interpretata da molti come un atto di accusa contro chi ha giocato sulle fragilità di un ragazzo e contro chi non si è accorto di quanto stava avvenendo. L'applauso all'uscita del feretro, bianco come i fiori e come i palloncini volati in cielo, ha reso concreta la vicinanza di una comunità intera. Per l'occasione la città di Senigallia aveva proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezzasta in tutti gli edifici pubblici e in tutte le scuole per la giornata di oggi. La stessa giunta municipale, sindaco in testa, era in prima fila ma erano presenti anche i dirigenti scolastici e diversi docenti dei due istituti superiori che Leonardo ha frequentato tra l'anno scorso e quest'anno. Picchetto d'onore dei vigili urbani stretti tra la commozione e il rigore che impone la divisa per quel collega Francesco piombato nella disperazione. Proprio con la pistola d'ordinanza del padre Leonardo si è tolto la vita. Sulla vicenda sono in corso ancora delle indagini strette nel massimo riservo. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo contro i gnoti per istigazione al suicidio. Nel frattempo, proprio date le critiche che si stanno allargando a macchia d'olio verso i compagni, i docenti e il preside, è intervenuto Andrea Nobili, ex garante regionale dei diritti dei minori delle Marche. Non è puntare il dito contro altri giovanissimi e le istituzioni scolastiche il modo giusto per affrontare drammi che hanno radici molto più profonde e che ci impongono riflessioni e interventi seri sul tema del disagio giovanile. Il ministro all'istruzione Valditara ha intanto inviato ispettori ministeriali per verificare le accuse sostenute dalla famiglia nei confronti della scuola.